buongiorno a tutti il secondo giorno di vacanza 38 chiesa di santa croce però è molto lontano c'è scritto bosco di san francesco potremmo andare qui stiamo studiando la cartina di assisi e abbiamo fatto un bel giro giro la cartina ecco assisi cartina fornita gentilmente dal campeggio e ci manca solo questo ah no ma sono due cose diverse noi dobbiamo andare alla rocca 28 diamo una piccola occhiata al camper qui come tutte le mattine c'è maglia che ha pappato e adesso dorme di nuovo sempre malatina però resiste colazione qui sotto c'è la gambusa più un altro letto dove c'è tutta la nostra roba e niente adesso svolgiamo le ultime operazioni prima di andare a fare di nuovo un altro giro da sisi questa volta con la luce quel giorno luce quel giorno Buon appetito. Grazie a tutti. Iniziamo la visita alla Rocca Maggiore. Grazie a tutti. 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 a tutti.